Come sempre cerco di essere quanto più benevole possibile, anche se non mi riesce spesso. È difficile. Molto difficile. Partendo da 0 a 10 dico 0 al giudice sportivo che ha privato di uno spettacolo, come ci ha detto il Presidente qua prima, i tifosi di Grotta e Paolisi, quindi uno 0 che forse era pure meno di 0, però alla fine lasciamo 0. Uno al Comitato regionale, perché è in tilt, basta pensare a quello che ha detto il Presidente Cordasco, a tante altre vicissitudini, ai recuperi, invece due lo diamo al San Martino, una rondine non ha fatto primavera e sicuramente a Taurano non c'è andato il San Martino, ci sono andati solo i resti a mio parere, mentre tre lo do al Paolisi, Paolisi è una società che ha sempre dato il meglio di sé sotto forma di programmazione, di aspetto, di tutto, però con la vicenda dei media hanno toppato di grosso, non di poco ma veramente tanto. Mentre quattro agli amministratori del Comune di Cervinara, è penoso vedere lo stadio alla prima acqua a non poter giocare una gara di promozione, 5 alla Virtus Codi che è il fantasma della squadra ammirata in passato, 6 invece al San Tommaso che prende tre punti d'oro e al Montesarchio che sta onorando nel miglior modo possibile il campionato di eccellenza, 7 al Presidente Cordasco perché è andato giusto, dritto nel solco giusto, quindi 8 non c'è il Presidente Siniscalchi ma al Taurano perché è una settimana da incorniciare quella per il Taurano, 9 a Mister Casale, molti diranno un voto scontato però nulla è scontato tanto è vero ho sottolineato il fatto che non so quanti allenatori avrebbero giocato con tre difensori in linea, Salvio ha scelto giusto perché ha studiato giusto e 10 al Grotta che riapre il campionato nel miglior modo possibile, se come abbiamo detto all'inizio dovesse succedere, non sono di parte quindi qualsiasi sia la decisione a noi è ben accetto, ha riaperto un campionato bellissimo.